Le 5 cose da sapere per scegliere bene un dentifricio Pasta o gel? Le due formulazioni sono identiche. La scelta tra l'una e l'altra è una questione di gusto. E per i fumatori? Chi fuma ha bisogno di un dentifricio ad azione combinata contro l'odore di nicotina e l'ingiallimento dei denti. Cercate tra gli ingredienti i pirofosfati. Possono essere efficaci in entrambi i casi. Bambini e fluoro Tutti i dentifrici contengono fluoro perché riduce il rischio carie. Attenzione però ai bambini. Cercate in etichetta quelli più adatti per i bambini fino a 6 anni che contengono la quantità più adatta di fluoro. Triclosan, sì o no? Meglio se non compare nella lista degli ingredienti perché è sospettato di essere un potenziale interferente endocrino. In commercio esistono già dentifrici che non lo contengono. Sbiancanti o abrasivi? Non si dovrebbe sfruttare l'azione abrasiva per sbiancare i denti, ma ingredienti specifici in grado di agire efficacemente senza rovinare lo smalto dei denti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.